Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova analisi di Euro-Dollaro. Torniamo a parlare di questo cambio dopo la scorsa volta qualche giorno fa perché ho visto che vi è piaciuto tanto e oltretutto faceva parte della sfida di Natale fatta con Tokos circa due anni fa. Tutte le previsioni erano state corrette, eravamo scesi oltre al target di 1,10€ e poi ci eravamo diretti sotto 1€ contro Dollaro. Per cui anche sul Forex, anche sulle valute, l'evoluta dimostra di essere un metodo statistico-matematico non discrezionale che ci illustra come si possono muovere mercati, asset, criptovalute e appunto anche cross-valutari. Mentre voi probabilmente vi rilassavate, io mi sono messo a fare sia tutta la centratura lato indice compresa appunto di T settimanali che anche quella lato inverso. Premessa però, ho un dubbio sia lato indice qua per capire che cosa è successo perché abbiamo avuto un T più 7 fatto A. Teoricamente dovrebbero essere 3T più 5 ma nella realtà dei fatti bisogna andare a vedere dove far partire l'eventuale terzo perché andando a guardare per bene ecco, ci sono dei raccordi che dovrebbero essere tra determinati cicli lo sono, ma cicli che dovrebbero essere intorno uno vicino uno all'altro e quindi ecco, c'è da ragionare su questa parte nel caso, se voleste ragionarci voi fatemi sapere qualche cosa nei commenti ma torniamo alla parte che ci interessa di più la parte che ci interessa di più, tra virgolette però è anche quella di sapere se da questo massimo quello del 10 di febbraio dello scorso anno abbiamo chiuso un annuale inverso perché è una delle possibilità sono andato a dare un'occhiata agli swing e per ora da qui è iniziato un mensile inverso vediamo anche perché avendo già 12 barre sotto un massimo questo, quello del 2 di febbraio è semplice andare a pensare già che da qui possa partire oltretutto un altro t più 3 inverso questo per quanto riguarda meramente appunto i cicli che ci sono più vicini e qui possiamo aver avuto un 6 barre piuttosto che questa dovrebbe essere la barra sopra dunque 1,079 1,080 perfetto, esatto da qui è partito il secondo t settimanale che fa 1,2,3 inverso ovviamente t più 3 anzi t settimanale secondo t inverso ed è a 1,2,3 giorni in questo modo grazie anche a questo movimento possiamo iniziare a mettere dei controlli per quanto riguarda sia l'indice che l'inverso un po' come abbiamo fatto la scorsa volta vedete che abbiamo sì violato con due barre allarghiamo di nuovo ancora un po' il grafico il nostro la nostra media mobile a 50 periodi che tra l'altro è andata in golden cross il discorso è che stiamo provando a tornare su provando a tornare su come però esaminiamo quest'ultima parte qui è già tutto centrato ok ho fatto un lavoro che spero appreziato da qui a qui siamo arrivati a 31 bar quindi siamo oltre la durata minima di 24 bar arrivata qua e siamo quindi su un mensile che ormai è laterale e che sta provando ad andare a chiudere con il quarto di settimanale il quarto di settimanale però ok è arrivato a 5 barre su minimo quante e minimo 6 quindi dovremmo cercare nei prossimi giorni di tornare sotto gli 1,061 dove metto un allarme 1.061 e ci mettiamo anche chiusura di settimanale e anche mensile in realtà se andremo qui sotto avremo anche la condizione per la chiusura di un mensile oltre a un mensile che cosa chiude può chiudere qua e può chiudere qualche cosa di più anche qui abbiamo avuto lato indice il primo mensile con l'aggiunta di un raccordo raccordo t-1 tra un mensile e un mensile poi siamo andati che è a 32 barre abbiamo fatto il secondo mensile secondo tp2 e da qui abbiamo fatto il terzo che però deve ancora andarsi a chiudere ecco perché siamo andati a ritoccare la media mobile a 50 periodi per il fatto che stiamo chiudendo non soltanto il terzo mensile ma potenzialmente a che ciclo siamo arrivati qua con 102 giorni siamo arrivati a un semestrale per cui una discesa per la chiusura di un semestrale richiede un po' di barre un po' di discesa se si chiude un tp4 ho bisogno di un tp1 ribassista che però ho già quasi completo da qui primo t settimanale secondo t settimanale due t fanno un tp1 manca poco manca ancora un'ultima discesa prima del rimbalzo abbiamo un'altra centratura di qualche tipo che ci possa dire che è già tutto chiuso allora qui abbiamo 8 barre tornando indietro da qui a qui 14 abbiamo un 7 da qualche parte abbiamo un 6 fatemi un attimo di vedere perché facendo tutto di corsa no abbiamo un 5 per cui questa è la centratura più corretta che possiamo avere una centratura in cui appunto manca ancora un minimo a meno che a meno che cosa a meno che questo si trasformi in un bel raccordo di grado 1 2 3 1 2 3 4 barre dove potete postare un raccordo di grado t meno 1 come questo può stare tra un mensile e un mensile e quindi per capire se siamo su un raccordo che ha chiuso e sta partendo un nuovo mensile o meno che cosa facciamo mettiamo anche un bel allarme qui al massimo a 1.080 1.080 1.080 questo perché nuovo mensile per il fatto che quando si fa un approccio ad un mercato differente rispetto a quelli che si conoscono e quando non si è finito il lavoro sull'inverso e sull'indice completato lo faccio per farvi ragionare con la vostra testa lo faccio per farvi fare le centrature lo faccio perché non ho tanto tempo ovviamente da dedicare a tutte queste cose sto facendo appunto una sediazione per l'anno nuovo ma in ogni caso diventa un esercizio per voi in modo che non prendiate tutto per buono che facciate i vostri controlli ma è vero che da qui può essere partito già un annuale abbiamo un semestrale rialzista può essere partito un t più 6 ovvero un biennale swing violato non violato abbiamo un tre tempi faremo un tre tempi oppure faremo un quattro tempi ovvero un primo t più 3 e un secondo t più 3 abbiamo qui la condizione per la partenza di un t più 3 complessivamente vedete vi spingo a fare in questo modo in modo che diventate autosufficienti quanto prima in modo che siate voi a persino confutare quello che vi dico posso fare errori ovviamente non essendo un fuffaguru devo fare di necessità virtù e può capitare facendo una centratura magari di dimenticare qualche cosa se però le persone studiano e capiscono che più ci si mette insieme e più si possono vedere più cose in maniera differente e notare magari delle cose che altri non hanno notato e più si capisce che facendo squadra si perde di meno e si rischia anche di guadagnare di più più occhi più teste sono meglio di una sola testa come quella di un guru che ormai è noto soprattutto a quelli delle criptovalute per questo motivo non volendo seguire la strada di persone che pensavano che il mercato seguisse i loro pensieri e la loro tecnica sapendo che questa è un'approssimazione del cambio euro-dollaro meglio fare squadra giusto? Altrimenti il mondo è perfetto così com'è in ogni istante io sono interessato a ragionare sempre di mercati di cambi di qualsiasi cosa con qualsiasi persona che si dimostri valida se lo si vuole fare bene se no ci si saluta e si va dall'altra parte ok? per questo motivo i due all'anni sono messi in modo da capire se questo sarà un raccordo e avremo spinta a rialzo per far partire il quarto mensile che ci sta tranquillamente nella durata di un t più 5 scusate di un t più 4 ovvero di un semestrale che è arrivato a 102 giorni ed è partito insieme ovviamente all'annuale oppure se si tornerà qui sotto semplicemente si continuerà il nostro mensile che può andare a chiudere la facoltà di andare a chiudere proprio questo semestrale per questo motivo il movimento di questa candela e delle successive è estremamente importante perché si può teoricamente continuare questo mensile fino alle 43 barre ovvero fino al 7 di marzo e si può continuare a anche eventualmente continuare ad affondare di nuovo importantissimo sarà vedere la pendenza della media mobile a 50 periodi e vedere se si rimarrà di sotto se guizzeremo qui sopra squillerà l'allarme sapremo che è estremamente probabile che ci sia la possibilità che parta un nuovo mensile che però attenzione potrebbe fare o meno parte di questo semestrale fatto e finito con tutte le condizioni sia per il suo inizio che per la sua fine e che potrebbe eventualmente però avere appunto un raccordo di grado di meno 1 tra però un mensile e un mensile che dovrebbero fare parte dello stesso semestrale quindi avremo più indicazioni di trading spero che anche questa analisi vi sia piaciuta nel caso mettete un bel like iscrivetevi al canale intanto è completamente gratuito e se volete giocare d'anticipo rispetto a chi mi legge su investing che però rimane chiuso durante il sabato o la domenica piuttosto che su altri canali su telegram tra l'altro mediamente racconto quando sta per uscire l'analisi per cui se andate sul mio canale telegram l'unico ufficiale che trovate nella schermata prima dei video nella schermata di presentazione dei video Jacopo Marini training evoluto non segnali VIP che è falso utilizzano il mio nome e cognome per fare delle truffe con le crypto io non vendo niente parlo soltanto in termini di ragionare su quelle che possono essere appunto l'eventualità del movimento di mercati di criptovalute e in questo caso di euro-dollaro non vendo niente mi raccomando ricordatevi che qui cliccando invece sulla campanellina sarete i primi ad essere avvisati rispetto a qualsiasi tipo di altro social vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splenda serata arrivederci